ecco qua oggi vi porto nel mio giardino nel mio rosetto venite accomodatevi ad ammirare le mie rose questa è la mia preferita per farla crescere c'è voluto concime c'è voluto tanta cura però adesso me ne vanto rosa stupenda che valorizza sicuramente il mio giardino e lì già ma stai ancora riprendendo ho delle rose che mettono angoscia non riprendere e non riprendere adesso comunque abbiamo fatto la nostra figura la nostra bella figura bene bene bene